La Lega Nord è favorevole all'abrogazione di Equitalia, perché? Noi siamo favorevoli all'abrogazione di Equitalia perché questo è un metodo che non funziona. I funzionari di Equitalia sono pagati a provvigione per riscuotere le tasse dei cittadini e con questo sistema, con un sistema di premialità nei loro confronti, si sono verificate e si verificheranno spesso delle ingiustizie. Per cui noi oggi volevamo l'abolizione di Equitalia, l'abrogazione della società e trovare un metodo ed un sistema diverso, più corretto nei confronti dei cittadini. Peccato che il Partito Democratico non ci abbia dato questa possibilità, sospendendo immediatamente la discussione. Chi potrebbe fare il loro lavoro, quello che sta facendo in questo momento Equitalia? Per noi è importante che siano suddivise la riscossione dall'avvio del procedimento. perché se così non è, se sarà sempre un unico ente ad occuparsi di questo, per cui agenzie, agenzia delle entrate, attraverso anche Equitalia che è di agenzia delle entrate, la cosa non funzionerà mai perché i funzionari saranno invitati a riscuotere anche quello che probabilmente non dovrebbero riscuotere.